L'agnatologia è una branca dell'odontoiatria molto particolare perché si occupa dei denti solo in secondo piano nel senso che il vero obiettivo dell'ognatologo è quello di relazionare la mandibola nei confronti del cranio in un modo ottimale nell'atto della decludizione. Si è visto infatti negli ultimi anni da studi recenti e da molte applicazioni fatte su pazienti che a secondo il modo in cui la mandibola viene relazionata sul cranio si possono avere delle situazioni di patologie che fino all'altro ieri non avevano causa conosciuta, ad esempio la cefalea muscolo tensiva, le cervicali, dei mal di schiena ribelli e persino anche delle algie a livello della deambulazione, mal di piedi o problematiche alle ginocchia. In realtà questa correlazione che sembra quanto strana vista così si spiega facilmente se pensiamo che nel momento in cui un paziente decludisce i suoi muscoli masticatori applicano una forza di circa 35 kg per ogni atto di decludizione e siccome facciamo 600 atti di decludizione al giorno viene intuitivo capire che se questa posizione non è corretta la tensione muscolare che se ne scaturisce può dare delle tensioni a livello cranico e infatti il primo distretto che soffre della problematica della malocclusione è proprio il distretto cervicale. Controllare la bocca dei pazienti per vedere se la loro occlusione pone la mandibola nell'aspetto corretto nei confronti del cranio è la prima cosa che noi facciamo quando un paziente si rivolge alla nostra attenzione. Lo facciamo su tutti i pazienti perché cerchiamo di prevenire l'insorgenza di cervicalgia o di mal di schiena nel tempo ma sicuramente lo facciamo sui pazienti che all'anamnesi presentano questo sintomo perché ci è capitato inizialmente diciamo come effetto collaterale positivo di vedere guarire pazienti da torcicollo mal di schiena o cervicalgie che li facevano soffrire da anni semplicemente mettendo gli denti a posto giusto. Il nostro intervento può avere un effetto predicibile e sicuramente consigliato al paziente se viene prima provato attraverso un'apparecchiatura. Non è sano infatti cercare di risolvere una problematica posturale intervenendo direttamente sui denti anche perché ancora oggi nonostante la vasta tecnologia che abbiamo a disposizione si procede per tentative ed errore. Per cui abbiamo messo a punto una tecnica molto semplice ed esente da qualunque rischio che è quella di provare per così dire la posizione e aspettare la guarigione. Mediante l'utilizzo di apparecchiature che non sono dei bite, ci tengo a precisarlo perché questa tecnica è diametralmente opposta all'azione del bite, sono dei riabilitatori neuroclusali che permettono di relazionare la mandibola senza far toccare i denti. Noi abbiamo la possibilità di trovare prima la guarigione nel paziente e solo dopo che il paziente ha una guarigione stabile trasferiamo sui denti quella posizione correggendo o la posizione dei denti oppure l'anatomia degli stessi denti mediante dei rialzi in composito delle corone o facendo delle sedute di molaggio selettivo qualora l'anatomia fosse in eccesso. Questa tecnica ci sta fornendo una quantità di soddisfazione professionale immensa che nei tempi antichi non era immaginabile per un dentista. Infatti il dentista per certi versi oggi sta sconfinando nel campo dell'ortopedia, nel campo della fisioterapia, ma se consideriamo che un medico alla fine deve fare qualcosa che fa star bene la gente, se questo è il modo giusto di farlo, questo noi facciamo. È chiaro che non ci improvvisiamo terapeuti di campi che non conosciamo, per cui nella nostra organizzazione vengono riconosciute di primo piano figure come l'osteopata, il fisioterapista, il fisiatra, l'ortopedico e persino la psicoterapeuta, perché a volte ci sono situazioni di tensione emotiva che giovano un ruolo primario su queste patologie.